A me ti sta biondando, signora cosa vuole mangiare? Do che sei esperto, il carciofo è la tutia Esperto, lo potrei fare occhi chiusi, dai Olio per friggere, via il gambo del carciofo, lasciamo 4 centimetri Questo non si butta, è buonissimo Via le foglie più dure e coreacee, bisogna levarne tante raga Povero carciofo ha perduto le sue foglie E ora rosellina Voilà, la rosa non è essenziale Quindi se non la sapete fare, tagliate semplicemente la testa Olio a 160 gradi, giù la prima frittura 5 minuti Mo' se deve freddare Andiamo ad aprire piano piano con le mani A 180 gradi Lo giriamo Sono questi i fiori che piacciono alle donne Scrivi nei commenti cosa vuoi vedere nella prossima ricetta